Un figlio qua dentro che c'ha tre figli e più nonno, quattro figli e più nonno, ha da fare, quant'è che fa? 29-30 anni, 29-30 anni, quando guardo là, quello che mi dico, non è parcolato, io ero sempre. Veramente, chi non sta andando tre volte alla settimana, ora non si fanno provare, ora andano a fare campagna elettorale, la gente si è andato a scucciare, poi dico che l'operaio, mi ha fissuto, io ti ho detto un'altra cosa, lo Stato dice che noi dobbiamo fare figli, no, voi, voi sono, perché io ero a caccio, sono vincente, c'è anche 71 anni, passato, ora faccio i 72 anni, così noi andiamo tutto bene. e faccio i miei figli, no, ma lo hanno detto, e faccio i miei figli, è giusto, no, io sono un ignorandone rispetto a loro che stanno a Roma, scusami, però si ha ragione, noi facciamo i miei figli, però si multinazionali, io dico un'altra cosa, qua ero il ministro, poi è entrata la Filippo, era il industria, il ministro, l'elettoratore, L'inizio se l'ha venduta da Filippo, se sarebbe un Giovanni Proccio, se l'ha venduta da Filippo, se sarebbe un Giovanni Proccio, se sarebbe un Giovanni Proccio, se l'ha venduta da Filippo, se la Filippo sarebbe una figlia da Filippo, a cui non sa come qua che hanno fatto, perché pure è una multinazionale, non si fa una legge sistemata che si multinazionali vanno a sfruttare, Noi qua abbiamo, io mi ricordo, perché ho pure la mano contro il padre Presidente, il primo grepio mondiale, ma pure quando ero in Ghis, non si trattava per tutti noi, in Ghis, FITESTA, ALGOR, ITT, facevano alcune mani, su sultra a sud che non era nessuno, però mi ha già imparato per riparazione, mi ha già imparato per il tipo, sono sempre disponibile, zero al centesimo, zero, quando facevo festa mi mandavano, volevo guardare l'altra, c'è lì, non c'era sempre, che cosa succede? Ma io mi ha fatto male, qua, con un segno, mi ha fatto l'infortunio, questo qua, vedi? Mi ha fatto una ricetta di tu, ma voi? Dice, scusate, mi ha fatto l'infortunio, mi ha mandato l'invermeria, un medico, se stava male, è morito, allora, dice, l'azienda, vengo qua, dico, veramente, non lo so, l'azienda mi ha fatto l'infortunio, mi ha fatto male, perché mi ha fatto male, perché sono stati posti, un po' perché faccio un barato buono, quando facevo festi, erano uguali. Questo è solo una cosa, ora, credete più nei tavoli del Mise, che tanto probabilmente già questo di oggi sarà rimandato, o venerdì nel tribunale per la sentenza? Io voglio dire un'altra cosa, questo sta pagando adesso, sta dando tutto, dico io, se io ho chiuso, qua qualcosa sotto del c'è, pago fatto, i suoi proprietari, non va bene questo stabilimento, io ho chiuso, localizzazione e fornisce, perché le stai pagando, perché, hai capito? Qua c'è qualcosa da noi, inizio, noi facevano per tutto il mondo, abbiamo vinto i premi mondiali, veramente, non lo sto cercando, quando è venuto un presidente, un presidente era qui fu, ma qua il direttore, so, domani deve venire il presidente, stanno in mezzo, dobbiamo fare un'assemblea, perché abbiamo vinto un premio, un premio era importante, come la patrice.